Questa è Giulia, una nuova giocatrice di Dead by Daylight E in questo video io e altri tre amici cercheremo di insegnarle alcune basi del gioco Tra una presa in giro e l'altra In alto a destra metterò dei suggerimenti Così che possiate anche voi imparare qualche trucco per migliorare il vostro gameplay Buona visione Già che non sento la motos... Ok no scherzavo, il Billy si è messo pure gli occhi arancioni Ma aiuto Allora, un consiglio che ti posso dare è di non prendere i loop così larghi Cioè cerca di giocare attaccata al muro più possibile Va bene No è finita, mi... Ok, come non detto Aia No, ricordati che puoi spaccare i pallet con la motosega Sì, lo so, lo so Devi tenere premuta, devi tenere premuta Sì, sì, lo so Ricordate, cioè prova a prendermi così Ma vedi, però adoggiata Però mi puoi ancora prendere Mi prendi, mi prendi adesso Nice Allora, Giulia Allontanarsi così Guardandomi fisso negli occhi Non è proprio la strategia migliore Dai, Giulia Giulia aspetta, ti voglio dare un consiglio Fermati un momento Stai ferma immobile Aspetta Perfetto Ciao Nooo Che merda Che merda Facciamo così Per due minuti non facciamo i gen Ti consiglio di andare nella zona Dove ci sono ancora gen da fare Non andare Eh sì, lo so Ok, tipo Ecco, adesso lo stai facendo Lì c'è un gen non fatto Quindi potremmo essere lì Se ti giri di 180 gradi Ci vedrai tutti Che ti stiamo seguendo Come un trenino Che si sono oggi Devi avvicinare No, no, no Devi essere più vicina Fai l'affondo Esatto Così Ottimo, ottimo Ma perché è l'antriolo? Vai Prendilo Vai, prendi Aurelio No, è salito È salito È salito È salito? Sì, sì, sì Tornate alle scale È là in cima No, non quelle scale Ma quante cazzo di scale ci sono Nesta mappa di merda? Qua, qua Sali su Ok Continua Oh No, no, no Cazzo Muori No, no, no Senti, non si può andare lì qua Dio No È niente Muore me No, Andrea Ti giuro Andrea Porta di storia No, allora Giulia Ascoltami Ascoltami Filati me Atterrami Atterrami Filati Atterrami Ma guarda il muro Guarda il muro Quando mi prendi Così non ti possono accecare In tutto questo sono La cavia sacrificale Infatti Facciamo il genere Ah beh, certo Ma dove è Giulia? Ascoltami Godo 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 Andrei a fare capitano Godo Oh cazzo Ma vuole me veramente Almeno una subito Se la voglio No, non c'è il pallet No, ragazzi Aiuto Matt Apro la porta Apri Apri Eh No, niente Ho provato a fare il 360 Guarda il muro Guarda il muro Prova a prendermi 3 2 1 No, no Non ti ritrovo Cazzo 0 e mezzo Addio Oddio Ho presa No 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 Ho preso io Oddio, ci arriva il gancio Eh, non ci arrivi al gancio No, non ci arrivi Puoi ancora prenderne uno Vai, 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 vai Usa la mutosega Allo dritto Corro No No Perché hai lasciato andare Peccato Dure Parole dure Cosa fai tu? Eh, troppo tardi Sono arrivato a una finestra Però se mi avessi Se avessi premuto M1 Mi avresti preso Ah, sì Poi col tempo Comincio a imparare Queste interazioni Vai, M1 Ok Ricordati Guarda un muro Guarda un muro Se no ci sono le torce Bravissima Vedi Dopo di bloccatore Vabbè Go Un po' go No, aiuto Ma io stavo solo guardando Vai Tieni premuto Tieni premuto No Merda Appena finisci la barra Gira il mouse Ecco, vedi? Così Vedi che curva un pochino Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Stai migliorando Cioè, hai fatto bene a tenerlo Adesso comunque mi prendi Perché non ho pallet Quindi non arrivo da nessuna parte Esatto, vedi? Però sei messa bene Perché hai un sacco di pressione Se questa fosse una partita vera Nessuno starebbe facendo i gen Col cui mi tiri su E comunque sono sempre Prima di essere uccidato No, no, no Oh No Merda Stai un coglione Vedi te vengo insultato Pure Boh Nice Oh Vedi? Io muoio di sanguato Comunque in tutto questo Sono disposto a morire Eppure di vederla vincere Vai Ma Aurelio cosa fa? Cerca la botola Potresti ancora prendere Aurelio Giuggia No Giù dove va? No Giù Ce l'avevi accanto È la botola No Via Aurelio accanto Eh no Troppo tardi Oh muore Oddio No è uscito all'ultimo Ciao Grazie per la visione!